Grazie a tutti per ringraziare il vero cuore sia Don Francesco che Dilaria Mezzoni per questo bellissimo invito a intervenire per la celebrazione della Santa Messina di Domenico. Inoltre sono qui a testimoniare e a rappresentare il sentimento di vera amicizia in fronte di Don Francesco, Dilaria, tutto il gruppo della carica barocchiare di San Giovanni Battista e a esprimere un vivo sentimento, un vivo apprezzamento per l'opera solidare che fate tutti i giorni, molto spesso in silenzio e a cui qualche volta nel recente passato anche i militari e i familiari dei militari della Santa Messina di Domenico avevano anticipato. Grazie per la vostra opera e per il vostro contributo. E infine voglio formulare Don Francesco di vero cuore un buon complesso, un buon settantesimo nel centro di questi giorni.